La streghetta è tornata, non c'è la niente, scusate, 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 e le nostre unnette. Allora abbiamo preparato le nostre unnette, le abbiamo sfornate, adesso le vediamo, facciamo un po' di magnesio, ecco qui, e facciamo un bel intercambio. Ora queste mommiette dobbiamo fare gli occhi, come si fanno gli occhi alle mommiette? Con la maionese e il claccia con la senape. Ma che cosa utilizzeremo? Maionese. Queste sono le nostre mommiette, nel frattempo io inforno queste altre qui. sono le nostre mommiette, le nostre mommiette, le nostre mommiette e le nostre mommiette. sono le nostre mommiette, le nostre mommiette. Ho sentito il ruolo di palline con il nostro piatto di buota? Eh si, abbiamo il piatto di giocare con le stesse mommiette. Ok, ne fai due tu? Si. E vengono praticamente così. Questa è la mommietta. Prima la voglio mangiare. Allora, mi faccio un pari di occhietti. Questo è già fatto. Questo è già fatto. Faccio questo, uno. E due. Oh, che begli occhi hai. Ho un buco. Facciamo l'altra. Mmm... Nella testa. Ti? Non rimane dentro. No. Fai altri occhietti. Con quello abbiamo avanzato nella maionese, naturalmente ci insuppate dentro le mommiette. Oh quello che avete fatto? Vabbè, questo è pronto, ci trovo è uno solo occhio, questo ha un solo occhio, quest'altro pagna è tipo a questo, naturalmente per fare queste cose ci siamo lavate le mani e di volta che toccavamo qualche altra cosa, le mani o le mani? Le mani, le mani, le mani, mi raccomando in questo periodo che c'è il covid cercate di non stare troppo in giro, cercate di evitare gli assegnamenti, vabbè però potete uscire per la spesa, per la spesa, tipo a pigiama party Ok, e allora questo è il nostro Halloween di quest'anno, visto che dobbiamo stare in casa e queste sono le nostre mummette, ciao a tutti! Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è questa, aiuto! Pichi? Spagna, ciao!